Iniquo tonfo del bitonto in quel di Casarano, un rigore infatti baste salentini per schienare i nostri, nonostante una grandinata di occasioni e due legni beffardi anziché no. Mister Valerano Loseto deve fare a meno di Clemente e Spinelli allettati dal virus influenzale e dunque si conferma il centrocampo d'emergenza di domenica scorsa. Petrarca garanzia fra i pali, sue occhiute sentinelle Gianfreda, Silletti e Gomes, nel mezzo Cardore facitore di gioco sorretto dalla corsa arrembante di Mariani e dalla classe di Chiaradia, esterni Tangorne e un rievolo sempre più adulto, davanti il bidente Maffei Palazzo. Giovanni Costantino risponde con un 4-3-1-2 che prevede fra i pali l'ex carotenuto insolitamente providenziale, la muraglia difensiva eretta da Bocchetti, Pambianchi, Guastamacchia e Parisi, in mediana Cannavaro-Ago della Bilancia con Ortisi e Navas a svariare sulle fasce, Gaeta ad inventare per il pericoloso Saraniti e il sempreverde Strambelli. Dopo le canoniche schermaglie incipitarie, Palazzo illumina per Chiaradia sulla destra, benefico traversone che carotenuto neutralizza. 6 minuti è rimessa chilometrica di Bocchetti da sinistra, Pambianchi in corna, palla che sfila fuori dun non nulla. Al 23esimo ci riprovano i rossazzurri, alla medesima maniera, ancora Bocchetti con le mani, Gomez allontana, vole del 10 e sfera fuori. Subito dopo la mezza, sempre l'ex galletto dalla distanza, Guantoni un poco tremebondi di Petrarca, Silletti, fuffa il tempo a Saraniti, che rapace non è. Minuto 35, destro deciso di Riefolo, che saetta accanto all'incrocio. Goffo retropassaggio di Pambianchi per carotenuto, che blocca con buona sicurezza, sì, la sicurezza della punizione indiretta in area, che però Pizzi di Bergamo dimentica di sancire. A 4 dall'intervallo, contropiede precipite di Bitontini, il gladiatorino libera Riefolo, che si invola sulla destra, corridoio lucente per Palazzo, scavetto all'ex compagno di squadra e cuoio, incredibilmente fuori bersaglio. Sulla scede l'entusiasmo finale della prima frazione, i leoncelli aggrediscono pure all'inizio della seconda. Quarto minuto, piazzato perfido di Maffei, controlla carotenuto. 60 secondi e il 10 in becca Saraniti, che calcia periglioso, ma Silletti sventa. Nono, crossing annevole di Riefolo, che sdrucciola sul fondo, dopo aver donato brividi a tutti. Ripartenza vertiginosa neroverde al diciottesimo, l'oris per Maffei, schermato dall'uscita disperata del guardiapale avverso. Tracciante la sottella di Dellino, poi Petrarca disinnesca. Al venticinquesimo Maffei, non è già tagliato, il pallone sbatta sulla faccia inferiore della traversa e rimbalza in campo. Secca stoccata di Cecere, Petrarca sinarca e mette in angolo. Dopo la mezz'ora spiovente di Vito Francesco dalla trequarti destra, inzucca Guastamacchia, alto. Un penalty, infine, scrive il destino del match al trentaduesimo. Saraniti tira, manicomio di goma e scinarea, dal dischetto Strambelli supera con qualche incertezza Petrarca. Sempre crinina ritta per i nostri, però. A sette dallo scadere, Riefolo sgasa tra i mastini rossazzurri e cede per l'ex gravina, che esplode una folgore, che si stampa ancora sulla traversa. Quasi al novantesimo, doppia chance in controgioco per i casaranesi. Vito Francesco Perdellino botta al volo che il portiere è già stato giallorosso Mura e fa sua pure la rovesciata di Saraniti. Fine dello spettacolo pirotecnico al Vito Capozza e giù il sipario sul 2022 in chiaroscuro del club del giovane Presidente Orlino. Ed ora si spera in un anno davvero nuovo.